E' una squadra che ha fisicità, una squadra che ha palleggio, in questo momento ha una grandissima autostima ed ha un giocatore in mezzo al campo come Togodò che ha qualità balistiche al di sopra della media per la categoria soprattutto sulle giocate da palla da fermo. Un avversario molto ostico il fatto che sia l'unica squadra che nel nostro girone sia riuscita a fare sette vittorie consecutive fino a questo momento la dice lunga sullo stato di forma della squadra piacentina. Non sarà tanto diversa dalla squadra che ha giocato contro la Pistoiese, ci sarà solo qualche cambiamento però la cosa che mi conforta di più è ritrovare Barisone, ritrovare Muscat completamente disponibili o per iniziare la gara o eventualmente a gara in corso soprattutto nell'ottica anche delle tre gare settimanali. Mi dispiace per De Feu perché tutte le volte che Beppe sta bene, che fa delle prestazioni sempre più convincenti c'è sempre un piccolo fastidietto, non è una cosa grave però molto probabilmente per una decina di giorni lo avremo a fare del lavoro differenziato. Peccato però, chi giocherà al suo posto sono sicurissimo che farà una grande partita.